Dinamo, tempo di campionato, premier di Serie A domani alle 18.30 per i biancoblu in trasferta con la WL Pesaro appena incontrata in Supercoppa. La squadra arriva al debutto col solito handicap dell'organico ridotto. Assenti giustificati Justin Tillman, ancora out dopo l'infortunio contro Bologna, e la Leistone Caspar Treyer che dal roster sardo manca da diverse giornate, mentre tornerà ma a mezzo servizio Stefano Gentile. Pozzecco quindi costretto a spremere i titolari e a rinviare il lavoro sugli schemi che permetteranno così il Pozz di poter giocare una palla canestro diversa da quella che abbiamo fatto vedere finora. Serve tempo, ma la regular season reclama il suo tributo d'agonismo e di basket ufficiale dopo mesi di palazzetti vuoti. Così il banco prova ad espugnare il parquet della WL, sfruttando il vecchio blocco Bilans Pissu e la next generation Pusica Barne Krusdin Benzius. Dall'altra parte, presumibilmente col coltello tra i denti, il fronte è allenato da Repesa in fase di riscatto dalla squadra materasso dalla scorsa stagione. Delfino, Kane e Filloi sono potenziali castigamatti che il reparto arretrato bianco-blu dovrà frenare dall'arco e sotto canestro. La Dinamo vuole iniziare al meglio inaugurando la terza stagione del coach friulano alla sua guida e allontanando le polemiche seguite all'espulsione del Pozz in semifinale di Supercoppa.